signor enzo buongiorno massimo ci siamo conosciuti aprilia alla manifestazione del 28 maggio si ricorda che poi siamo stati citati anche nel suo ultimo video che la presentazione la manifestazione del settembre io intanto la volevo ringraziare per averci citato perché se vede che il lavoro che ho fatto il diorama è piaciuto è rimasto impresso negli occhi di chi lo guarda ecco niente io come dicevo la ringrazio che comunque ci ha citato nel suo video e niente io avevo piacere avevo piacere se lei un pomeriggio una domenica ci aveva tempo da dedicare io volevo far vedere in grandi linee la vita di un modellista che magari che è un assetato di storia e poi alla fine è un ricostruttore della storia la rivive niente io vi volevo far vedere più che altro ecco come la vita di un modellista perché come può ben vedere ecco qua ci sono modelli di tutti i generi c'è un museo a cielo aperto anche se sta chiuso dentro una stanza però diciamo che è un modo di rivivere la storia di rivalutarla di considerarla e diciamo di divulgarla che modellista divulga la storia alla fine e niente io ecco come può ben vedere qua ci abbiamo modelli di tutti i geni ci abbiamo i navi trovolanti car armati tutti i mezzi costruiti dall'uomo per uno scopo ben preciso e specifico ci abbiamo i bombardieri che hanno bombardato ma adesso non si vede perché col video purtroppo questo tutti i bombardieri che sono passati su roma che hanno falcidiato l'italia per un anno e mezzo ci sono giornali dello sbarco del pacifico in francia caen matapan bismarck ansio è la la main la main e medio oriente i grandi giganti della storia bombardieri strategici americani e tutti i cacciarussi quasi abbiamo i car armati e niente per me era ripeto se lei si affaccia per frascati se vuole fare una passeggiata vuole dedicatore a un matto come me ma come me ce ne sono tanti e che ricostruiscono questa storia e queste storie ci incontriamo ci prendiamo caffè come fare una chiacchierata tra amici ecco più che altro per allargare conoscenze le organizzazioni diciamo storico culturali che stanno nascendo invece del degrado sociale che si vede al di fuori del cancello di casa nostra ecco quindi noi dobbiamo rimanere ci dobbiamo distinguere da quella massa in forme ecco niente poi abbiamo abbiamo il classico il classico se sapete il classico f14 grande top canne abbiamo ci abbiamo di tutto qua ecco ma io più che altro mi piace la condivisione dei determinati argomenti faccia caso a bandiera perché è una è una mia scelta etica poi condivisibile opinabile non opinabile però faccio parte di un determinato sistema di pensieri e niente ecco dottorezzo questo tutto qua e ripeto se passa e ha voglia di vedere come vive un modellista sarò ben lieto di poter scambiare un colloquio con lei ecco tutto niente di che intanto la ringrazio sempre per diciamo la considerazione che ci ha dato nel suo video e niente andiamo avanti adesso sto costruendo ho costruito il robert che era che era appostato sotto la galleria dei villasegni quello che lei ha visto e adesso sto lavorando sul progetto del leopold su un video e una foto famosa di cui spara da ciampino dalla stazione ciampino sparava sulla testa di ponte quindi con eduardo stiamo facendo tutta una ricerca storica non indifferente perché abbiamo contattato tutti i più grandi diciamo archivi centrali tedeschi della seconda guerra mondiale ci hanno mandato giù un po' po' di roba e quindi sto lavorando per costruire proprio ricostruire il momento dello sparo del cannone leopold che tirava sulla testa di ponte è un lavoro grosso lavoro grosso è un lavoro impegnativo ma ci avrà tempo però il modellista è questo come dicevo all'inizio video è un ricostruttore della storia ecco poi mi avvalgo del lavoro di eduardo che sul piano di organizzativo e di ricerca di fonti storiche è indispensabile per adesso questa specie di organizzazione diciamo culturale storia culturale è di due persone però cerchiamo di allargarci per non annoiarci in questo mondo che sta andando totalmente alla deriva quindi ecco sarà un lavoro lungo estenuante però metastimoli metastimoli per continuare robert mi è costato 15 mesi di quasi notti insonni tra la progettazione la lavorazione la costruzione e la messa in opera e questo ci vorrà altrettanto e però poi sarò ben lieto di magari donarlo a qualche museo che mostra effettivamente la nostra storia del territorio e quello che è veramente accaduto ecco ok signor Enzo noi andiamo avanti sempre spediti con modelli da costruire c'ho anche la corazzata Roma perché un mio più grande progetto era costruire tutta la squadra navale che si andava a rendere a Malta però ci vuole tempo pazienza e tra il lavoro e la famiglia vabbè io spero di non averla annoiata e ripeto se vuole sarò ben lieto di potergli dedicare tempo perché pure il mondo del modellista è un mondo diciamo fantastico, fantasioso, idealista è sempre che cerca di rappresentare quello che è stato quindi è un mondo a parte è una nicchia di cui se ne parla poco ma il mondo del modellismo è un mondo meraviglioso è un mondo meraviglioso perché gli chiede conoscenza storica quindi automaticamente non è soltanto appiccicare dei pezzi di plastica e colorarli ma è dargli un senso, dargli una connotazione e contestualizzarli quindi è un mondo che va scoperto, non si deve perdere perché purtroppo con l'avvento dell'informatica e del digitale purtroppo è un mondo che sta letteralmente, non annaspando però ci dovrebbero essere degli enti della mia visione delirante che inducono i giovani ragazzi di oggi invece di buttarsi sull'iPhone e rincoglionirsi col sistema o dal sistema cercare di dare degli indirizzi per poter vivere una vita come quello che ho vissuto io all'insegna dei pennelli, della ricerca storica, dei libri perché come puoi vedere là è tutta una documentazione storica e la rappresentazione della storia che poi è quello che ci rappresenta da parte di noi quindi sarebbe lieto di poter soltanto dimostrare o far vedere come vive un modellista tutto l'anno al di là del protagonismo che non mi appartiene infatti sul Robert non ho voluto mettere nome, non ho voluto mettere niente il protagonista doveva essere lui, non chi l'ha fatto e quindi non cerco né fama né visibilità cerco soltanto di poter dire alle altre persone che hanno dei figli indirizzateli sul campo del modellismo perché il modellismo è anche storia, è anche cultura ed è un bene a cui non dobbiamo rinunciare ok? io la ringrazio se l'ho annoiata con questi 9 minuti e se ci sentiamo presto arrivederci